Lo sviluppo della competenza comunicativa. Si definisce competenza comunicativa l'insieme di precondizioni e regole che rendono possibile e attuabile per ogni individuo il significare e il comunicare. Gli studi sullo sviluppo della comunicazione, oltre ad analizzare l'apprendimento dei sistemi di suoni, della sintassi e del vocabolario che costituiscono il linguaggio, hanno posto l'accento sull'apprendimento delle regole d'uso del linguaggio stesso, quella che poi in genere chiamiamo pragmatica, che avviene nel corso dell'interazione bambino-ambiente nei primi anni di vita. È stato dimostrato che la fase prelinguistica dello sviluppo non è precomunicativa, che cioè prima di una competenza linguistica si può attribuire al bambino una competenza comunicativa, fondata sulla possibilità di comunicare attraverso canali e modalità non verbali. Si può sostenere che i sistemi di comunicazione preverbale costituiscono la base per l'acquisizione del linguaggio. Quando tra adulti e bambino si instaura un rapporto strutturato con suddivisione di compiti, alternanza di turni, complementarità di ruoli, regole e convenzioni riconosciute da entrambi, siamo di fronte ad un vero e proprio sistema comunicativo che precede il linguaggio, ma che possiede tutte le caratteristiche strutturali. È possibile individuare una continuità tra comunicazione non verbale, prelinguistica e linguaggio. Le modalità utilizzate dal bambino per comunicare attraverso segnali non verbali vengono trasferite alla comunicazione linguistica. D'altra parte, man mano che il bambino acquisisce il linguaggio, la comunicazione non verbale non viene meno, non è tralasciata, ma continua a svolgere ovviamente una funzione integrativa nei confronti del linguaggio. Quando tra la fine del primo anno e l'inizio del secondo anno di vita compare il linguaggio, essa rappresenta un'estensione del repertorio linguistico del bambino. Nel primo anno di vita il ruolo attivo del bambino si esprime nell'emissione dei segnali che ottengono un effetto immediato consistente, concernente nel destare interesse e attenzione. Uno dei momenti evolutivi più interessanti è costituito dall'apprendimento da parte del bambino della finalizzazione del suo comportamento. Il bambino impara ad usare correttamente e volontariamente, secondo uno scopo, il repertorio dei segnali di cui dispone, superando la fase precedente, caratterizzata da un uso riflesso e quindi non finalizzato di tali segnali. Nell'ultima parte del primo anno, quindi verso la fine del primo anno, si può parlare di un dialogo reciproco e intenzionale tra il bambino e il suo interlocutore. La reciprocità si riferisce alla consapevolezza che il dialogo bilaterale implica il coinvolgimento di entrambi i partner, i quali assumono di volta in volta ruoli reciproci ed interscambiabili, che tale scambio periodico dei ruoli risponde a regole riconosciute e accettate da entrambi. L'intenzionalità viene raggiunta quando il bambino si rende conto che il proprio comportamento ha valore comunicativo e che può essere usato per influenzare il comportamento altrui allo scopo di ottenere risultati desiderati. I partner sono coinvolti nel dialogo e lo sostengono secondo modelli di comportamenti strutturati in sequenze comportamentali alternate, secondo un'organizzazione di sostanziale sostanziale sincronia e sono quindi in grado di finalizzare consapevolezza il comportamento ad uno scopo. Nel secondo anno di vita la partecipazione del bambino all'interazione sociale sarà ovviamente arricchita dall'acquisizione di gesti simbolici, come ad esempio il gesto di indicare e dei primi elementi del linguaggio stesso.